Ciao a tutti, oggi un nuovo video. Oggi vi proverò con voi questa truce di Barbie nuovissima. Guardate, delle Barbie. Magic Tears. Perché sono giochi le Barbie, quindi si chiama Magic Tears. La prima cosa, mi andrò a toccare gli occhi. Semplicissima questa cosa. Un trucco da pomeriggio oggi. Perché dobbiamo andare in biblioteca, perché piacciono molto a me i libri. Quindi faccio un trucco da pomeriggio. Prendo il rosso, rosso un po' nero. Ok. 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 Me l'hanno regalata. Ok. Questa base l'abbiamo finita, la base. Adesso intanto prendo un po' di rossetto. Prendo il rossetto. Lino. Un rossetto. Bellissima. Dove me lo metto nelle labbra. In lo spalmo. Mi prendo un po' di rossetto. Un po' di rossetto. Le scarpe le metto bianche. E' intanto un bitrate. Un po' di rossetto. Un po' di rossetto. E' un po' di rossetto. E' un po' di rossetto. Un po' di rossetto. Questo video è finito Mettete tanti like Mettete i pollici in su Attivate la campanellina Mettete tanti pollici in su Ancora se volete E tanti baci Ciao